Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, sono molto contento di cominciare quest'anno in ritardo, devo dire, queste conversazioni con i protagonisti, però vedrete che ne vale la pena, non tanto per i protagonisti, quanto ovviamente per me. Ho due o tre cosine, anzi due sole cosine da dirvi, che anche quest'anno come tutti gli anni c'è questa carta natale che il teatro offre, per modo di dire, perché sono 75 euro, cinque spettacoli nel periodo natalizio dal 27 novembre fino alla fine della stagione, quindi avete tutta la possibilità. Ovviamente 75 euro sono poche rispetto al prezzo. Un'altra cosa, il nostro prossimo incontro, che ci spero anche molto, sarà il 12 dicembre, finale di partita, con Glauco Mauri e Enrico Sturno, che sono due grandissimi attori, e poi finale di partita, se non lo conoscete, è un bellissimo pezzo. Cosa possiamo dirci d'altro? Lo chiamo, cosa dite? Allora, Io e Pirandello è il titolo di questo spettacolo con Sebastiano Lomonaco. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai? Posso non rispondere? Sì, oppure inventa. Ed Cambron, sapete che vuol dire? C'è sì, come stavo su lui? Senti. Sento un po'. No, perché sai, ho capito, hai detto che non sono... Avete la mascherina? Allora, titolo impegnativo. Quale? Il tuo. Io e Pirandello. No, io pensavo il mio titolo di commendatore, pensavo impegnativo, un ragazzaccio così, commendatore. Questo non sapete, commendatore, che vuol dire? Commendatore della Repubblica, è che vuol dire, mica del Regno, basevi, non sono così vecchio. Pensavo, pensavo forse del Regno che l'avesse dato Maria Giossè. E' vero che ho frequentato Paola Borboni, Salvo Randone, Ernesto Calindri, che alla mia età si ricorda di Eva Magni. Assolutamente sì. Allora, questo spettacolo che faccio in fondo è tutta una carrellata. Eva Magni era con Renzo Ricci, la moglie. Io non ho fatto tempo a conoscere Renzo Ricci, sono stato l'ultimo fidanzato di Eva Magni. La mamma di Nora Ricci? La mamma, no, 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 signora, se lei avesse solo solo la parvenza di avere i soldi di Berlusconi, io con lei scommetterei tutto quello che ho. Perché? La signora è ricchissima, eh? La signora è ricchissima? È ricchissima. Lo so, lo so, la conosco. Lo sai, la conosci? Non stai scherzando? Si tuffa nell'oro come paperon de paperon. Quanto scommettiamo? Forse era figlia di Primo Letto. Signora, vogliamo scommettere quanto? No, vabbè, adesso, signora, lasci un po' più. Ah, signora, io ho bisogno, guardi, appena incontro qualche possibilità di fare danaro. Mi rendo conto che il tono della chiacchierata è molto diverso da quando al mio posto c'è Gabriele Lavia. Su questo non c'è veramente... Allora, no, le voglio dire che Nora Ricci è figlia di Renzo Ricci e di... Margherita Vanni. Margherita Vanni. Scusa. Eh, no. Eh, no, chi l'ha detto? Voilà. La... Eva Magni è stata una moglie che è arrivata dopo un primo matrimonio. Comunque, stiamo parlando di grandi... Ieri sera, durante il tuo spettacolo, a parte tutto il resto di Pirandello, della tua recitazione, di tutto quello che parleremo, c'è stata questa evocazione di grandezze passate e tu spesso ti sei rivolto anche al pub. C'erano molti, giovani e giovanissimi ieri sera, i quali ovviamente di fronte a certi nomi enormi avevano l'occhio bianco proprio. Chi sarà? Sì. No, io... No, io sono più vecchio di te. Anche se non si vede assolutamente... Di quel mese, diciamo. Di poco. E siamo cresci... Io sono cresciuto con gli sceneggiati televisivi. Anche io. E quindi ho avuto la gioia e di vedere anche a teatro delle cose assolutamente straordinarie. Se posso aggiungere, credo che non stiamo rispettando la scaletta che ti hai preparato. Ma tu credi che per me sia importante? No, no, ma io credo che oramai... È aperto o chiuso il mio? Ti sei abituato a non avere scaletta con me. C'è una differenza fondamentale di cui mi sono proprio reso conto recentemente chiedendo a me stesso il perché di questa trasformazione di molti teatri. E non perché è presente qui il direttore, ma sinceramente io dico saranno rimasti tre, quattro, forse cinque, ma di quelli che frequento io, tre teatri italiani che continuano a fare il teatro con gli attori e che non si sono trasformati in studi televisivi. Non so se mi capite l'ironia di fondo. Ci sono dei teatri i cui cartelloni sono diventati dei palinzesti televisivi. Ma non lo dico con cattiveria, la vita va avanti, non posso pretendere di essere io il produttore della vita, la vita va avanti da sé, la storia si autogoverna da sé. Sì, è vero che gli uomini fanno la storia, ma è anche vero che gli uomini alle volte, come dire, subiscono, vengono trascinati dagli eventi della storia. Nell'epoca di cui parla Umberto, gli sceneggiati televisivi erano fatti, erano grandi sceneggiati, erano molto ben recitati, perché erano interpretati da tutti, giovani o vecchi, attori, anzi dai migliori attori del teatro italiano, che passavano in televisione. E dalla televisione poi acquistavano grande fama, che portavano a consolidare le loro carriere teatrali e a portare quindi acqua al sagro molino. Che è esattamente l'opposto. Che è esattamente l'opposto di quello che avviene oggi. Si conquista prestissimo una basta, uno sceneggiato televisivo a vent'anni, dove tu non hai studiato, non hai la voce, non conosci la dizione, che non è la cosa fondamentale. Che male vogliamo, la tacchipirina? Se devi prendere la tacchipirina, santo cielo, prendila. Ma te. Non vorrei. Ti metti il camerino però. Grazie. Dicevo che questa tipologia di non attori, non sono attori, chiunque oggi può essere attore. Scusa, addirittura le nobilità ti dicendo che partono da uno sceneggiato televisivo. Spesso partono da un grande fratello. Dal grande fratello. Dagli amici di Maria. Dagli amici di Maria. Dai striptease, come si chiamano, gli spogliarelli. Ci sono anche uomini, donne, i go-go boys. I tronisti. I tronisti, le lap dance, eccetera. Poi basta che la popolarità viene usata oggi impudicamente dai produttori teatrali. E ancora, ancora, quando lo fa un produttore privato, si può capire, nel privato c'è sempre, come dire, l'alea del dubbio. Se lo fa solo per un'operazione, se fa il teatro per un'operazione commerciale o se fa il teatro perché ha delle pulsioni artistiche, se ha una passione vera per questo strano mondo, per questa strana macchina che si chiama teatro. E che, come sapete, è una delle forme, anzi no, l'unica forma d'arte, di spettacolo, di cultura, cioè complessiva, che non ha avuto necessità di cambiare il suo status, la forma di espressione, da quando è stata inventata. 2.700 anni prima di Cristo. I teatri greci sono la prima forma di costruzione di uno spazio dedicato al teatro architettonicamente. E il teatro che nasce allora aveva bisogno di soli tre elementi per consistere, che è parola molto pirandelliana e anche religiosa, per consistere, per sussistere, ma per consistere. Di soli tre elementi, 2.500 e 2.700 anni fa e anche oggi, dove tutto è cambiato, quando sono nato io non c'erano i telefonini, non c'era l'iPad, non c'era il computer, quando è nata mia nonna non c'era il telefono, quando è nata la mia bisnonna non c'erano gli aeroplani. Invenzioni che cambiano la realtà nel giro di pochi anni, poi di pochi minuti, adesso di pochi mesi, questa invenzione dell'uomo o di qualche ente superiore all'uomo ha bisogno, ripeto, di tre elementi. L'autore, l'attore e il pubblico. Tutto il resto sovrastruttura. Sì, i video, le amplificazioni, oggi abbiamo la luce elettrica, prima si accendevano le fiaccole. E che cosa succede? Questo sarebbe stato anche parte dello spettacolo di ieri sera, ma posso raccontare tutto quello che ho appreso in 60 anni? Perché ci vorrebbe un convegno di un mese. Nel teatro avviene quello che avviene nella messa cristiana. Il verbo si fa carne. Ma io ho parlato con dei sacerdoti, non c'è niente di blasfemo in quello che sto dicendo. Et verbum caro factum est. Nella messa cristiana, ovviamente per chi è credente, io lo sono, nella messa cristiana, in quel momento noi abbiamo, come dire, l'evento della transustanzazione e crediamo che nel simbolo ci sia veramente il corpo di Cristo. Per i greci no, ma l'evento c'è. Che cos'è la parola? In fondo, se non il pensiero, è proprio la parola greca, logos. Il pensiero degli autori, i tragici greci in questo caso erano Sofogos, quelli che sono rimasti di altri solo frammenti, Aristofane come ideografo, il pensiero dell'autore si incarna, o meglio, arriva, prende corpo nell'attore, diventa parola, sudore, ansia, pensiero, sofferenza, si fa carne e si dà in comunione al pubblico, si dà in pasto al pubblico. La prima messa, la prima celebrazione, non la chiamiamo messa, è del rito in questa forma e la religione cristiana ha mutuato dal teatro greco la forma del rito della Santa Messa. Siete d'accordo? Sì, direi abbastanza, sì. Sembravo l'avia. Sì, ti sei un po' l'aviato. Sembravo serio. Senti, ho ascoltato molto attentamente quello che hai detto ovviamente. Quando dicevi che l'attore porta il pensiero dell'autore, siamo entrati secondo me un po' in pirandello. Perché? Ti spiego come... Io non so niente, ecco perché sto divagando. Ma io so tutto. Il personaggio, cioè l'attore, e tu ne hai parlato anche ieri sera, malgrado tu non sappia nulla di pirandello. L'attore diventa personaggio, diventando personaggio perde, può perdere se stesso. E tu hai parlato anche di solitudine di questo, della difficoltà di un attore a diventare, a uscire dal personaggio e a trovarsi certe volte male nell'uomo perché non so come l'ho spiegato. E questo secondo me è anche pirandello. Qual è poi, diciamo, il punto introduttivo di tutto questo? Perché una cosa ho già capito di dirtela. Il punto succede? Questo. Tu sai che ieri sera l'ho detto, no? Certo, che lo so che l'hai detto. E se succede come? Preciso. Ora voglio dire, non pensiate che io sia un uomo sempre triste, ma, anzi nella vita vengo preso per una specie di cacciarone, di uno stupidone, che dice sempre, insomma, sciocchezze. Ma in questo momento, non per una scelta di un bilancio, perché la cifra anagrafica è precisa, allora uno no. È da alcuni anni che alcuni dubbi, alcune domande, alcune riflessioni, e in queste riflessioni alcune amarezze, vengono fuori e mi chiedono una spiegazione. Voglio fare una precisazione a quello che ha detto Umberto. Ti porti a casa, o ti porti addosso il personaggio, non riesci a togliere... Io dico una cosa leggermente diversa. Che quando ti spogli, che quando una persona, un uomo, una donna, ma non so se capita a tutti, ma capita a me, da 40 anni faccio il teatro da professionista. Ho debuttato nel 79, nel 19 sono 40. Cominciai a giocare al teatro alle scuole elementari, avevo 5 anni. Mi fecero fare una piccola apparizione nella cosiddetta, non so se si fa ancora, festa della mamma. La festa della mamma c'è, ma nelle scuole si recitava. E poi ho recitato in parrocchia, e poi ho recitato al liceo classico, con un gruppo di liceo classico. Ora, perdonatemi questo peccato di vanità, ma in fondo, involontariamente, lo spettacolo è un omaggio a Pirandello e a Siracusa, come se fossero i miei nomi tutelari. Fare il liceo classico, frequentare il liceo classico in una città che si chiama Siracusa, non è come frequentare, perdonate questo peccato d'orgoglio, non è come frequentare il liceo classico a Bolzano, o a Belluno, o a Bustarsizio. Perché? Perché quando noi, un ragazzino di 14-15 anni, non è che si innamora del greco antico a prima vista, anzi, io ne avevo nausea, stavo male, perché non capivo niente, se non ci fossero dei signori, direi, non capivo un bel niente. E i verbi erano una cosa faticosissima, l'auristo, non l'ho mai capito, mi ricordo ancora di questa parola, auristo, ma non so che significa. A Roma ti dicono l'arista di maiale, ma è un'altra cosa. E però se passavo delle giornate, dei pomeriggi, invece che andare a giocare, invece che andare in teatro col parro, con Don Lucio, dovevo faticare a tradurre l'Andromaca, a tradurre l'Ediporee. Ebbene però in quella città avveniva, poi per noi ragazzi, non so se per tutti, per me è avvenuto, avveniva un miracolo, che nella tarda primavera di ogni anno, tutto quello che avevamo studiato, diventava vita vera. Quella lingua che avevamo durante le giornate uggiose, piovose, allora in Sicilia pioveva, adesso un po' meno, credo che si chiami surriscaldamento, ma io non mi occupo di queste cose banali della vita reale. E poi vedevi in tarda primavera, che in quel meraviglioso, che per me è il più bello, questo è stato recitato anche ad Epidauro, ma quello di Siracusa è il più bel teatro greco che esista al mondo. In quel teatro diventavano vita vera, prendevano corpo, quelle parole, e venivano dette da immensi, immensi attori. Oggi forse non esistono più, non esistono più, sono tutti morti. Pensate che io nel 66 ho visto Annibale Ninchi, ecco perché io appartengo forse più al secolo scorso che non a questo. Sicuramente ho vissuto più anni del secolo scorso, piuttosto di quanti me ne rimangono in questo da vivere. E allora Annibale Ninchi ed Elena Zareschi, ma vi dice qualcosa, bisogna che si abbia la mia età. E devo dire che dei bambini ne vedo poi, no, dei ragazzini. E poi invece più recentemente Valeria Moriconi, Glauco Mauri... Glauco Mauri, che l'abbiamo ancora, sarà il mio prossimo incontro. Insomma, questa materia, questa materia incandescente, credetemi, nei tragici greci c'è tutta la storia dell'umanità, tutta la storia necessaria all'umanità. Nei tragici greci c'è la filosofia, c'è il senso della legge e della giustizia, c'è l'etica, c'è la poetica, c'è la... I greci hanno scritto tutto. Io credo che da un punto di vista di letteratura non abbiamo inventato niente. Riscriviamo, continuiamo a riscrivere e a rimasticare, lo dice Pirandello, le stesse parole di sempre. Grazie. Non è mica finita. Io avevo una particolare passione per Sara Ferrati, che non so, tu la ricordi? Stiamo parlando di grandi... Io l'ho vista a teatro, tu non hai fatto a tempo. Sì, ho visto Gallina Vecchia. Anch'io, perché è l'ultima cosa che ha fatto. Voilà. Grandissima. Si parlava prima di Nora Ricci, ricordate le sorelle materassi alla televisione. Rina Morelli, Nora Ricci, Aveninchi. Aveninchi. Era la cameriera. E Pambieri era il nipone. Giuseppe Pambieri, che era giovanissimo e bellissimo. e la Millie, la Millie che faceva la vecchia russa, la ricca russa amante di Pambieri, quella che gli regalava. Questa non me la ricordo. Era Millie. Ma pensa tu. Ma pensa tu. Qualcuno conferma che era Millie o sto dicendo... Non lo sanno. Io... Ma lei è una ragazzina, come fa a ricordarsi? Cosa vuol sapere lei? Sai, io senza occhiali da qua vi vedo tutti i ragazzini. Non gentilissimo. Che ne so. È una ragazzina davvero, io ci vedo da Dio. Io non lo so, ma se lei dice di averla vista, non può avere vent'anni. No, certo. Potrebbe averla vista in replica ieri sera. Ieri sera. Quindi può averne anche 18 di anni. Senti... Come quella signorina che vede, quella ragazzina che vede in piedi. Cioè una ragazzina non ha ancora le sciale. Perché non si siede signorina? Vuole crescere. Sempre per divagare, abbiamo parlato di questi grandissimi nomi, eccetera. Si diceva, tu stesso hai detto, non esistono forse più. Perché? È una questione di... Tu parli anche nel tuo spettacolo della scuola. Parli della tua giuria, diciamo, che ti ha dedicato. Ma secondo te perché questi nomi, questi nomi che sono enormi, che possiamo dirne 40, come posso dire, oggi... 40, 50, 100, ci smettiamo a giocare con tutto il pubblico, ne tiriamo fuori qualche centinaio. Qual è la tua opinione del perché? Allora, ci sono... Ci sono bravi attori. Ci sono bravi attori, ce ne sono alcuni grandissimi, ma non vengono più riconosciuti né tenuti in quella considerazione perché sono avvenute nel Paese tante cose. Nel Paese e nel mondo. Intanto abbiamo detto questa facilità di raggiungere la fama, per cui occupare spazi che invece dovrebbero essere occupati da chi ne ha meriti, da chi ha i talenti per occupare quegli spazi. Quindi c'è già questo svisamento, non so se la parola esiste... La facciamo esiste. ...questo travisamento della realtà. Se uno si prepara, si organizza, passione... La passione non è sufficiente, perché si può avere passione per il teatro come si può avere passione per una donna o per un uomo e non essere ricambiati. Io ricordo, dovrei dirla, nello spettacolo aggiungere, ma potrebbe durare veramente 5-6 ore. Eravamo in tournée con Paola Borboni e un giovane attore siciliano, era figlio di un mio amico, poi ha fatto una fiction, è diventato abbastanza importantino, ma non aveva nessun talento. Veniva spessissimo a Roma, quando recitavamo a Roma nel camerino della Paola Borboni, alla fine, ma signora Borboni mi deve prendere in compagnia con lei, ma dillo allo monaco, il capo è lui. Ma io ho una passione, io devo fare il teatro, se la Borboni non vivo, se faccio il teatro, perché ho una grande passione per il teatro. Beh, caro, bisogna vedere se questa passione sarà ricambiata dal teatro. Ed è vero, e questo è un motivo, bisogna avere talenti, ma talenti eccezionali, perché il teatro lo fanno in tanti. Poi la vita fa, almeno una volta era la vita, adesso è la politica, che fa le selezioni. E quindi chi poi è destinato a fare dei piccoli personaggi, il generico, che già è un ruolo abbastanza, e poi c'è quello che diceva il pranzo è servito, eccetera. Questo era la vita. Negli ultimi anni il sistema culturale si è talmente, come dire, intricato con il sistema politico, che le scelte, per la maggior parte dei casi, di chi deve andare in scena, non sono fatte dalla storia, dalla gavetta, dalla, come dire, dalla autopromozione per talento. Non è sempre stato un po' così anche nell'epoca di cui si parlava prima? No, molto meno in quell'epoca di cui si parlava prima, no, perché non c'era neanche proprio il concetto. E nasce negli anni 70 il finanziamento dello Stato al teatro, negli anni 60-70. E quindi quegli attori che nella prima metà del secolo si chiamavano Renzo Ricci, Anni Baleninchi, Ruggero Ruggeri, Sara Ferrati, Lilla Brignone, eccetera, eccetera, Rina Morelli, non avevano a che fare. E allora se i teatri non si riempivano, questi signori non mangiavano. E allora i capocomici di allora, perché non esisteva il teatro pubblico. Ovviamente il teatro pubblico ha subito le infiltrazioni. Il teatro finanziato dalla politica subisce le pressioni della politica. Si dice che non dovrebbe essere così, ma ahimè, non posso non constatare che è dappertutto così. Senti, aggiungere, io di solito so che voi attori santificate quasi sempre il pubblico, poi adesso c'è, dite il pubblico, eccetera. Però non esiste anche una modificazione del gusto del pubblico, oltre a quello che dicevamo. Certo. Senza togliere niente, alla grazia, siete bravi, simpatici, venite a teatro, eccetera. Però spesso... Ma certo, e questa era una delle tante, come dire, motivazioni per cui si è perso questo culto del grande attore, è proprio l'essenza, la presenza del grande attore, che il gusto del pubblico è cambiato, ma non per colpa del pubblico, si è, come dire, abbassato di livello culturale. Perché quello che viene dato, ma non solo in teatro, prima di arrivare a teatro, viene data una quantità di materiali scadenti nell'offerta, diciamo, del mercato, dello spettacolo. E tutti i cosiddetti, non li posso demonizzare, perché so che tutto ciò che è nato di questa tecnologia recente di cui io non uso niente, pensate che non ho neanche un computer, non ho le email, non le ricevo, non le mando, non faccio Whatsapp. Dopo decenni... Che antico. Dopo decenni mi sono convinto di imparare a mandare i messaggini, e basta. No, però, però la quantità di offerta che c'è in questi cosiddetti social, web, la rete, di materiale, di fiction, di telefilm, di stupidaggine, storie di vampiri, di ari di vampiri, di ari degli imbecilli, di ari dei minosabbens... I medici, storie di medici, di infermieri, di portantini, le serie sui portantini... Cuochi, cuochi. Non parliamo dei cuochi. Non parliamo del cibo... Perché secondo me tra un po' ci saranno i cuochi a teatro. Io dico una cosa... Sì, sì, sì. Avremmo veramente toccato il cuochi. Ho già visto qualcosa del genere, delle serate organizzate dove qualcuno cucina nei teatri. Io dico una cosa che vi sembrerà esageratamente apocalittica, ma il senso della fine culturale dell'Occidente è il dilagare di queste trasmissioni e di questi programmi sugli chef e sui grandi chef, su come si cucina, su come si mangia, scusate, su come si caga. Ma questa è una delle manifestazioni della fine della cultura occidentale. Non abbiamo più niente da dire se pensiamo solo a mangiare. Ma questo non vuol dire... Io riconosco che la cucina è cultura, è la cultura. Non puoi riempire la giornata intera di tanti canali televisivi, di gente che spezzetta Tacchini, Ana, Trevuova, eccetera. Allora, la storia della cucina, per esempio, italiana, è la storia del nostro popolo. Va avanti insieme al popolo, insieme alla povertà del nostro popolo, insieme alle guerre che il nostro popolo ha vissuto, quando si era poveri si mangiava una cosa, la carne era una roba che prima degli anni 50 non esisteva quasi nella famiglia, se no in quegli ambienti il professore universitario, il medico, eccetera. La domenica mangiava... Questa è una storia che va di passo alla storia culturale e politica dei paesi. Il nostro, forse dal punto di vista proprio della cultura culinaria, è forse il più importante del mondo. Ma perché poi non dire che magari i paesi dell'Oriente non hanno cucine straordinarie, eccetera. E poi io non parlo male in sé, parlo della mediaticità dell'occupazione degli spazi. Mia madre è stata, adesso un pochino stanca, è stata una cuoca straordinaria, credetemi, venivano, ma non una cuoca professionista, era una maestra, come vi dicevo ieri, ma venivano da tutte le parti della Sicilia, perché un amico, diceva un amico, eccetera, ad imparare delle ricette da mia madre. E poi finché ho potuto, finché il metabolismo me lo ha permesso, sono stato anche un grande mangiatore. Adesso per essere così, che non sono proprio magrissimo, devo guardarlo il cibo. L'acqua frizzante già mi fa prendere delle calorie. Senti, torniamo un attimo al tuo spettacolo, ma adoro comunque divagare. Vuoi prendere la tacpirina? Ma secondo voi, come vedete, qualcuno di voi ha visto lo spettacolo? Arrivano. Oh, nessuno. Ma ho capito, ma perché io devo stare qua con voi se voi non venite a teatro? Ma tutti domenica. Quanto è sabato? Ma adesso poi mi ricordi, adesso io ti rispondo, mi devi ricordare che dobbiamo fare pubblicità per sabato e molti di domenica si devono trasferire a sabato. E poi vi spiego perché. Ne va del mio futuro, della mia carriera di giovinetto. Non ho capito, ma pazienza. Adesso ve la spiego, dopo dobbiamo parlare di aiutare. Non volevo sapere, è stata a chi pirina. Allora, c'è un medico, un paramedico, un paracetamolo. Lei è medico? La puoi prendere? No, ma la prendo adesso o dopo lo spettacolo? No, adesso. Dà energia o ti abbatte? Abbatte? E allora devo fare lo spettacolo. Andiamo avanti. No, mi sembra che ti sei ripreso bene. Ma no, perché è giusto non essere chi viene e fa il malato. Sì, no, ovvio. Dicevo, torniamo un po' al tuo spettacolo. Abbiamo divagato. C'è tanta storia della Sicilia. Ieri sera, mentre lo guardavo, perché io l'ho visto, al contrario di tutta questa gente qua, quando si parla con i napoletani, con gli attori napoletani, con il teatro napoletano, eccetera, si dice addirittura la parola la napoletanità. Mi stai a sentire? Certo, la napoletanità. L'ultima parola, come a scuola. Quando si parla con gli attori napoletani. Ma io faccio, so fare due o tre cose contemporaneamente. Tu non ti sei accorto, ma ieri mentre ero in scena ho ordinato il ristorante. No, non me ne sono accorto. No, infatti no. Esiste, e vorrei che tu me lo dicessi e che stessi anche un filo più attento, una sicilianità. E come la definiresti? Non credi che esista? I miei conterranei in questo momento meriterrebbero un po' uno stronzo. perché io dico di no, che teatralmente parlando non c'è più una sicilianità in teatro. C'è stata non una sicilianità ma una scuola teatrale siciliana che è finita, credo, con Turi Ferro, con il gruppo di Turi Ferro, la compagnia del Teatro Stabile di Catania. Una scuola che nasce alla fine dell'Ottocento con gli attori come Giovanni Grasso che andavano in tournée all'estero e poi una certa, sono nomi che magari vi dicono poco, Mimì Aguglia, Balistreri, Lisetta Balistreri, che non è rosa, non è la contante. Rosa la ricordo, sì. No. E poi Angelo Musco, qui cominciamo a parlare di personaggi che conoscete. Angelo Musco, Rosina Anselmi e poi Saro Urzi, Umberto Spadaro, che sono stati caratteristiche di tanto cinema degli anni 50. Rocco e i suoi fratelli, Saro Urzi. E Saro Urzi è il papà della Sandrelli in Sedotta e Abbandonata. Certo. Quando la porta in processione. Sì, ma lo presenta benissimo. E quella tipologia di attore, e lo dico senza volerne, come dire, accusare un demerito, non ha mai parlato l'italiano di cui pontificavo lì di sera. Conoscevano soltanto, recitavano o in dialetto o in italiano, ma con una forte cadenza siciliana. Per cui i testi di queste compagnie teatrali erano prettamente testi di autori siciliani. E che gli autori rappresentati? Infatti, a parte il noto Pirandello, il un po' meno noto Rosso di San Secondo, poi c'è una grande quantità di autori che non sono mai... e che sono stati portati, come si diceva una volta da noi, in continente da Angelo Musco. E sono Nino Martoglio, vi dice qualcosa? No. Ecco, questo è gravissimo, professore. E adesso stia un po' attento lei, perché le faccio una piccola lezione. Nino Martoglio, Luigi Capuana, vi dice niente, Giovanni Verga... Come le foglie, Capuana. Già cosa? Ma adesso perché l'ha detto? Io non mi sarei permesso di contraddire il professore. Qua tutti puntano il dito, ho sbagliato. Ammazzatemi. No, sì, sì. No, Capuana ha qualcosa di simile, ma insomma... Il Marchese di Roccaverdina, voilà. No, ma poi ci sono autori che non conoscete, che si chiamano Antonino Russo Giusti. Una signora che si chiamava, il nome proprio, non me lo ricordo, tipo Rosa Sabato Agnetta, che era l'amante di Angelo Musco e scriveva le cose che chiedeva lui. Antonino Russo Giusti, che è una delle commedie famose, ma esistono queste commedie, filmate, perché ci sono i film di Musco, film oggi molto ingenue. Lui era un grandissimo attore comico. Vedendolo oggi al cinema non si ride, credo, tanto. Ma si chiamavano, di questa Sabato Agnetta di Antonino Russo Giusti, si chiamavano L'eredità dello zio Buonanima. Vi dice qualcosa, il re di denari, Gatta Cicova, commedia di inizio di 1906. Tutte sui toni comici. Allora, fra quella tipologia di attori che erano quasi un carro, delle famiglie poi si sposavano fra loro, eccetera, i cugini, i nipoti andavano in giro, e il repertorio che avevano, che era prettamente dialettale e in qualche modo attinente alla terra di Sicilia, ecco che allora c'era una sicilianità nel teatro. Secondo me la sicilianità nel teatro si è persa. E credo di poter dire che è abbastanza una coincidenza, piacevole da raccontare, che io, come dire, sia assurto a questa definizione di, non posso dire di miei aggettivi, ma di attore prettamente pirandelliano, credo che sia abbastanza una coincidenza, perché un attore pirandelliano straordinario è stato Alberto Lionello, che era milanese. Quindi non c'è una grande... La stessa sicilianità di cui tu parlavi, secondo me Pirandello in qualche maniera ci passa appena. Certo. Ecco, perché Pirandello è infinitamente più universale che siciliano. Si sa che è siciliano, però non... Infatti, stavo per dimenticare, meno male che in questo modo me lo hai ricordato, di farti questa piccola lezione su Nino Martoglio. La sicilianità, Pirandello la perde, le prime commedie di Pirandello sono prettamente dei bozzetti siciliani. Alcune non mi piacciono neanche delle prime, adesso vi dirò quali. Ma Pirandello è stato stimolato a scrivere per il teatro. Devi andare a vedere chi è questo signore, che era un grande intellettuale, anche molto noto a Milano, negli ambienti culturali, Nino Martoglio, giornali importanti, scriveva. È stato stimolato a scrivere, è quasi proprio convinto, se non costretto, a scrivere teatro da questo signore che si chiama Nino Martoglio, di cui almeno quelli che hanno, dalla mia età in su, avranno sentito almeno un titolo, L'Aria del Continente. Ahia! Eh? Non posso far finta. Vuol dire che sei più piccolo? Eh, infatti! Qualcuno si ricorda questo titolo, L'Aria del Continente? Era di questo Martoglio. Sì. L'ultimo che l'ha fatta... Eh? Che ne sape lei? Di una è lei? Lei non si mette agli occhiali. No, ma di dov'è lei? Perché una che dice Michele Abruzzo... Comunque l'ultimo che l'ha... No, l'ultimo, diciamo, più noto è stato Turiferro, ma l'ha fatta anche Nino Frassica. Nino Frassica, una trentina e passa d'anni fa, dopo che ebbe quel successo televisivo con Arbore, fece questa commedia siciliana. Difendo Frassica, perché per me è uno dei pochi... straordinari, l'unico... Simpatici televisivi. L'unico, l'unico... Mi fa ridere lui e nessun altro. Ma io non l'ho detto nel niente di... Ma no, l'ho detto questo per spezzare un'arancia. Le prime commedie, addirittura di Pirandello, sono scritte a quattro mani. Le prime commedie di Pirandello sono in dialetto. Lui scrive l'Iola in dialetto siciliano, la Giara in dialetto siciliano, e il Berretto a Sonagli, che ancora io ho fatto qui due stagioni fa, credo che l'abbiate visto. Anche ieri sera hai fatto un pezzettino. È un pezzettino, ma la commedia ha una forte, come dire, ambientazione e anima siciliana. Le corna, le corde pazze, i pupi, tutta una concettualità molto siciliana. Queste commedie sono scritte a quattro mani. Addirittura è molto probabile che molte parole, molte parti, siano addirittura di Lino Martoglio, ma comunque sono firmate da Pirandello. Com'era stato questo incontro, lo sai, con Martoglio e Pirandello? Come nasce l'incontro non lo so, so solo che erano degli intellettuali. Perché non era siciliano, hai detto lui. Sì, sì. Ah, Martoglio anche? Sì, Martoglio era di Catania, Pirandello di Agrigento. Pirandello recalcitrava a volere scrivere per il teatro, perché la sua passione, i suoi scritti giovanili dichiarano che i suoi modelli letterari erano i grandi autori russi, Dostoyevsky, Tolstoy, eccetera. E quindi era quello, era quella la sua aspirazione, di diventare un grande autore, come dire, di matrice europea. Aveva studiato a Bonn da ragazzino, pensate che un siciliano nato ad Agrigento, figlio di una famiglia benestante, il padre era proprietario di miniere, ma insomma alla fine dell'Ottocento ha avuto l'intuizione di andare a studiare a Bonn. Pensate, io parlo del mio, 1977, che sembrava ancora il dopoguerra, da noi in Sicilia, e lui alla fine dell'Ottocento. Quindi si era immerso e imbevuto di una cultura miteleuropea già alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando era ragazzino. Nel 21 lui già scrive a sei personaggi in cerco di autore, che è la commedia, ancora oggi è più effrattiva, è più eclatante, nella sua dimensione proprio di innovazione della storia del teatro. E niente provinciale, in qualche modo. Niente provinciale. Il respiro è altissimo. Abbandona subito, dopo queste prime tre commedie, abbandona le ambientazioni, e come diceva bene il professore, il respiro siciliano in qualche modo meridionale. Sono Enrico IV, sei personaggi in cerco di autore, questa sera si recita soggetto. Così è se vi pare. Così è se vi pare. Possono essere ambientati, immaginati. Se uno non legge che è pirandello, se un ragazzino di Berlino o di Amsterdam non gli si dice chi è l'autore, non c'è nessun motivo per pensare che così, se vi pare, abbia a che fare con la Sicilia. Io però voglio i vestiti neri. A me pirandello piace col vestito nero. Le donne con le calze nere, con le scarpe col passante. Le donne, ho detto. Però ce l'ho il passante. Ma non è quello che dicevo. Sì, ho capito. Senti, a proposito di Borboni, e la ricordo, con le stampelle a fare la signora Frola, che era una cosa assolutamente straordinaria. Assolutamente straordinaria. L'ho rivisto su YouTube, che c'è, per fortuna, riguardatevelo, perché è una roba che poi la Borboni con i suoi passaggi televisivi certe volte è diventata un po' anche la caricatura di se stessa. Bravo, bravo. E nessuno sapeva veramente la sua grandezza di attrice. Oggi quando si nomina Paolo a Borboni per la maggior parte del pubblico è quella stravagante signora con le velette che andava al Costanzo Show e che ha fatto parlare il pappagallo di Portobello. È vero. Ma no, per la maggior parte... Vedi che si cadeva in basso anche allora. Beh, bisogna però dare... Dai, la Borboni. Come dire, a merito a quella generazione e fra poco anche alla mia che bisognava campare. Non c'è dubbio. La Borboni non è mai stata ricca. Io ho conosciuto... Io mi meraviglio. Non so se la perderò. Vorrei fare un gesto ma non riesco neanche a girarmi. Insomma, tocco ferro invece di toccare altro e fatelo voi per me. E come dice qualcuno dal balcone e non dimenticate di pregare per me. Io mi sorprendo di avere potuto acquistare... Devo ancora finire di pagare il mutuo? C'è no, credo per altri dieci anni. Di acquistare una bellissima casa a Roma quando ho conosciuto la Paola Borboni alla fine degli anni nell'87. Quindi lei è 87enne. L'87enne. Tu pensa, tu l'hai vista con le stampelle nel cos'è se ti pare. E quella è storia della Borboni precedente al nostro incontro che dura sei stagioni. Tu penso quanto ha lavorato questa signora. Io comincio a frequentare Paola Borboni sul palcoscenico e la compagnia dura sei stagioni nell'estate dell'87 e abbiamo lavorato fino all'aprile del 94. E una signora di 87 anni ovviamente aveva già fatto tutto perché aveva fatto il suo nudo come racconto nello spettacolo nel 25 a 25 anni. aveva debuttato a 16 con chi? Con Ruggero Ruggeri. Aveva interpretato testi di Pirandello con Pirandello in platea. Era andata a battere i pugni da Mussolini perché non volevano dare in Italia i diritti di una commedia francese ma ha incontrato Mussolini e ha ottenuto i diritti della commedia. Perché sai che non si potevano usare le parole straniere? Nei titoli ovviamente se uno leggeva un romanzo in inglese non credo fossi vietato ma che gli attori o i titoli dei film e delle commedia non potevano essere stranieri c'era una commedia francese Vanda Osiri l'avevano chiamata Vanda Osiri perché la S finale era troppo e qualcuno si ricorda che uno spettacolo di qualche anno fa di Pirandello che si chiamava non si sa come io imitavo Vanda Osiris non l'avete visto eppure sembrate sempre gli stessi puoi farcelo qua? No, non avevo la parma Non ci vorrebbe la scala farei il voi volentieri La Borboni riuscì ad ottenere da Mussolini di rappresentare una commedia francese che titolava Tavarish Compagno lei disse in russo francese in russo la commedia era francese ma il titolo era Tavarish perché erano dei conti russi decaduti dopo la rivoluzione che vanno a servizio a casa di ricchi parvenu ma loro sono la cameriera e il maggiordomo ma sono dei nobili russi decaduti che vanno a casa di parvenu arricchiti per cui i raffinati erano il cameriera e il maggiordomo i caffoni erano padroni e si intitolava Compagno e allora la Borboni dice a Mussolini caro se noi lasciamo il titolo straniero nessuno sa di cosa stiamo parlando ma se te la intitoliamo con la traduzione ti facciamo una pubblicità contraria Compagno dice va bene lasci il titolo russo senti torniamo un attimo al tuo spettacolo adoro comunque divagare figurati un po' ma magari loro vogliono sapere è divagazione è delizia per sé io chissà cosa avevo scritto ma chi se ne frega tu ti racconti anche nel tuo spettacolo c'è una 1100 blu mi sembra io da bambino adoravo la 1100 che mi sembrava oggi se le vedi sembrano delle saponette allora mi sembrava una macchina grande oggi sembra non so è più piccola della smart una 1100 vabbè era la berlina di allora con cui tu andavi a abano terme a chianciano a chianciano partendo dalla sicilia e questa la 1100 di allora la mamma si sentiva male io ricordo quando andavamo sul bracco noi tre fratelli vomitavamo a un quarto d'ora di distanza l'uno dall'altro allora si vomitava sul bracco perché noi andavamo a framura d'estate non c'era l'autostrada quindi denuncio una certa età da Sestri Levante si pigliava su si faceva il bracco e ci raccontavano anche che c'erano i briganti io non sapevo neanche che esistesse la Liguria allora figuriamoci beh ma tu sei isolato figuratevi il bracco il passo del bracco esiste ancora il bracco è un autore teatrale anche un cane se è per quello dicevo tu hai portato con questo titolo e Pirandello hai portato un po' ti sei un po' denudato sulla scena racconti di te racconti fai 4-5 interventi teatrali da cui addirittura uno dantesco due di Pirandello Euripide se non sbaglio mi manca cosa mi manca Sofocle Pietro Grasso credo siano 6 Pietro Grasso anche gli interventi sono 6 come 6 sono i manichini come 6 sono i personaggi non c'è bisogno a zingara per nominare insomma quando sono scesi i manichini aspettavo che arrivassero a 6 perché cosa ti ha spinto a portarti in scena invece che scegliere un testo o di qualcun altro vuoi la verità? sì ma la verità 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 siamo in pochi puoi dirla allora fino a due stagioni fa sono venuto qua con uno spettacolo con diversi attori 10 attori del Berretto Assonagli ma in passato ho avuto anche compagnie con 28 attori qui non era mai venuto io ricordo il tuo hotello molto bello nell'hotello c'erano 18 attori 10 tecnici eravamo circa 30 persone le difficoltà le difficoltà economiche di tenere in piedi una compagnia teatrale mi hanno spinto a parallelamente al Berretto Assonagli che fra pochi giorni io riprendo a Verbania ho alcune recite in Piemonte poi andiamo a Roma al Teatro Quirino per due settimane se avete dei parenti romani degli amici fate glielo sapere dall'11 al 23 dicembre allora per poter sostenere la compagnia maggiore maggiore di numero no perché fra attori e tecnici il Berretto Assonagli ha quelle 16 persone al giorno e dovete sapere che ogni mese successivo ci sono 28 mila 25 26 28 mila euro di oneri di contributi da pagare allo Stato per fare questa roba che chiamiamo cultura teatro basterebbe che ci detassassero quello e noi non dico saremmo ricchi ma saremmo sereni e allora questa diciamo è la motivazione quella proprio logistica si dice logistica di opportunità come diresti con una parola più adeguata stavo pensando mi veniva in mente un'altra ma prosaica la motivazione è prosaica bravo grazie quanto è colto faccio dei figuroni qua proprio è questo che non doveva succedere piglia è stata chipirina no e poi l'altra siamo quasi in finale non preoccuparti no no qualcuna delle caramelle ma ce l'hanno sicuro una valda visto che rimaniamo nell'antica non lo so se esistono ancora grazie le golia esistono le valda non lo so ma le valda erano schifose quella adatta a noi si chiama voxil in farmacia c'è miele e anche qualche altro ma è vero che gli attori mangiano anche le acciughe per via del gli attori e soprattutto i cantanti lirici i cantanti lirici tranne gli attori a cui le acciughe l'altra motivazione meno prosaica è quella che da qualche anno lo dicevo prima appunto mi vengono fuori queste domande queste riflessioni su quanta parte della mia vita ha avuto di bello in teatro tanta parte quanta parte della mia vita ha avuto di spiaceri in teatro o a causa del teatro ahimè gli anni per un fatto come dire storico per il fatto che molti mi hanno preceduto che ci sono stati tanti uomini che mi hanno preceduto quindi è un fatto storico anagrafico so che gli anni che ho già passato sulla terra sono molti di più di quelli che mi restano da vivere e quindi ho pensato ma voglio fare un punto cosa ho fatto fino adesso e allora mi avvenne nell'estate del 2017 quindi recente di avere da agrigento dove sono anche direttore del teatro Luigi Pinandello che è un bellissimo teatro ottocentesco e credo che qui in zona sia rimasto solo il Modena come teatri antichi Gustavo Modena sì no ce n'è Camogli c'è ancora teatro in Riviera fuori sì il teatro diciamo fatto a classico appunto mi fu commissionato uno spettacolo per commemorare nel giugno del 2017 i 150 anni dalla nascita di Pirandello scusa è un teatro che Pirandello ha frequentato fisicamente quel teatro di via Grigento sì 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 perché c'era già Marta Abba c'è passata per dire sono passati tutti esisteva già nel 1885 quindi più o meno quando Pirandello nasceva tanto è vero che si chiamava Regina Margherita il teatro prima di Pirandello e e vi dicevo mi fu commissionato un'opera per celebrare io riconosciuto attore pirandelliano per celebrare i 150 anni della nascita è difficile parlare però con la caramella in bocca sì e e io ho cominciato a mettere insieme dico beh quali opere di Pirandello ho fatto quali potrei far sentire al pubblico dico ma ne ho fatte 10 12 non è possibile posso fare una serata allora dico facciamo io come ho incontrato Pirandello perché e poi mi sono accorto che man mano che mettevo giù non c'è adesso c'è una scrittura del testo anche se io poi lo faccio senza avere imparato a memoria ciò che io stesso ho scritto lo racconto come mi capita però poi mi sono accorto che durante la scrittura stavo parlando anche molto spero non troppo anche di me e allora ho detto beh no qui forse sta prendendo più spazio il racconto di me piuttosto che l'omaggio a Pirandello mi sono accorto che quel racconto di me era un racconto di una vita pirandelliana mente vissuta di una vita che in cui un uomo un attore ovviamente era stato visitato quasi che io non abbia mai scelto i personaggi da rappresentare ma che i personaggi che ho fatto mi hanno scelto come ho raccontato credo molto dettagliatamente nei vari momenti poi mettendo insieme tutti i pezzi Edipo Re l'ho scelto o sono stato scelto che ho frequentato i personaggi che mi hanno che mi hanno frequentato che hanno voluto è molto pirandelliano che hanno voluto essere ecco perché il racconto di me e della mia vita in teatro è pirandelliano esso stesso credo di aver risposto sì grazie c'è una cosa io adoro la vita che ti diedi di Pirandello tu non l'hai fatto mai per il semplice motivo che non posso essere una madre perché no perché è una madre un po' pesantina di lineamenti no sì perché c'è però è straordinario è una protagonista femminile poi sono quasi tutte donne credo ci siano pochi uomini sì c'è il prete mi sembra sì ma insomma però grazie a Dio qualche giorno fa una regista un direttore artistico di un teatro italiano una regista francese che mi voleva per un spettacolo ma il monsieur le monaco il joue solamente le protagoniste voilà si sa mazzo mi siete colti avete riso anche in francese ma guarda che il pubblico di Genova ve l'ho sognata in Sicilia ma si è diversa è diversa non era italiana no 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 siamo in chiusura ovviamente se avete qualcosa da dire sapete che è sempre molto gradito ma abbiamo detto qualcosa di quello che avevi previsto sì abbiamo parlato molto praticamente tutto ma io non ho delle domande qui ho delle cose no vi voglio dire questo del sabato ah del sabato è vero sabato mi viene a vedere non non è bello proprio insomma raccontarlo nei dettagli ma un non voglio un o una vostra o vostro concittadino che dirige un teatro del sud Italia chi può essere non dobbiamo risponderci va bene signora com'è che lei sta riprendendo proprio questo momento lo vuole portare un investigatore privato la signora è una spia e casualmente mentre domenica il teatro è quasi pieno sabato è quasi è molto e allora che fa eh eh ci credo io che ho visto le piante signora non sono mica contento sono mica contento la mia fisia mia fisia non ci siamo non ci siamo eh lo so ma cosa vuoi lascia perdere ma come ma come se io parlassi siciliano ma chi lo sa noi siamo più generosi non ti avrei detto lascia perdere così è te lo avrebbe detto il pubblico insomma fate una domanda vabbè comunque pubblicizzate il sabato voi di sabato portatene altri e voi parlate tanto fate delle tante telefonate io so di essere nei limiti ovviamente ovviamente del consentito dalle regole so di essere amato a Genova come attore e quindi vi chiedo datemi una mano pubblicizzate il sabato che ognuno di voi si riproduca si riproduca in amici in parenti e si moltiplichi in altri spettatori avete domande insulti direi che grazie volete Liban per un piccolo pensierino per Natale mi spiace hai scelto la città sbagliata e lo vedo ma non credo che nelle altre città invece ti facciano dei bonifici ma dei grossi regali sì e vabbè lì chissà questo me l'ha regalato una istriana e va me l'ha regalato cosa vuole lei ma è un vero ma è cinese non c'è dubbio 8 euro secondo me quando vi dirò chi era questa istriana nata a Pola a Riga Valli vi pentirete di questa ironia sulla signora recitavamo con uno spettacolo di Pirandello a Zurigo nel 96 97 né prima né dopo arriva a Zurigo lei faceva la generale nel questa sera si resta soggetto e io era il capocomico lei era già da alcuni anni abbiamo fatto insieme anche il consiglio se vi pare reggio di Mauro Bolognini che allora non veniva a Genova non ero così noto e con la Valli che faceva uno spettacolo bellissimo la Valli non recitava più era intorno ai suoi 75 anni non recitava più parlava abbiamo avuto i teatri pieni di gente che stava anche all'impiedi non c'era posto entravano pagavano per stare in piedi oggi non si potrebbe allora si poteva arriviamo a Zurigo era già due o tre stagioni che facevamo insieme la signora aveva oltre che avuto gioie e successi anche percepito dei lauti compensi in quei due o tre anni e pensò di farmi trovare in camerino questo omaggio che è ancora qui non è cinese no mai t'ha citato che poi la signora Valli si servisse dai cinesi io non lo so per me il valore è un altro lo credo grazie allora grazie a voi grazie a voi